In vestita e uccisa un'orsa alle porte di Castel di Sangro, l'episodio risale alle 21 di ieri sera, quando una femmina di orso di circa sei anni è stata in vestita da un veicolo, forse un camion, che non si è fermato sulla statale 652 che collega Castel di Sangro a Venafro, precisamente a Rione Rosannitico. Poco dopo l'animale è stato trovato, agonizzante ai margini della statale 17, da altri passanti che hanno segnalato la sua presenza all'ente parco e carabinieri forestali, che hanno subito attivato pattuglie di pronto intervento e soccorsi. Purtroppo l'impatto violento aveva determinato diversi traumi, tra cui la paralisi degli arti posteriori e nel giro di alcuni minuti l'animale è morto. Si è reso quindi necessario il trasporto presso le strutture veterinarie della serie del parco a Pescasseroli. La carcassa dell'esemplare sarà quindi trasferita all'istituto zobrofilattico di Teramo per i necessari accertamenti necroscopici. L'evento di ieri sera ripropone in modo drammatico il tema della conservazione di una specie a rischio di estinzione proprio per l'elevato numero di fattori che possono incidere negativamente sulla sua conservazione, commentano dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il plantigrado si aggirava nella zona ad alcuni giorni e specie e bambini avevano cominciato a familiarizzarvi.